La vita e la carriera di Paolo Bonolis, un viaggio nel cuore della televisione italiana. A 63 anni, Paolo Bonolis, il carismatico e brillante conduttore, ha segnato la televisione italiana per decenni, diventando una figura iconica per il pubblico. Ma chi è veramente Paolo Bonolis? Oltre al suo inconfondibile stile di conduzione e alla sua presenza sullo schermo, c'è molto di più da scoprire riguardo alla sua vita personale e professionale. Da un'infanzia a Roma alle sue esperienze formative, dai momenti difficili ai successi travolgenti, la storia di Bonolis è un mosaico di emozioni, sfide e trionfi. Gli inizi, un talento in crescita. Paolo Bonolis nasce il 14 giugno 1961 a Roma. Sin da giovane, dimostra una grande passione per il mondo dello spettacolo. Inizia la sua carriera come DJ, un ruolo che gli permette di interagire con il pubblico e sviluppare le sue abilità comunicative. Questo primo contatto con la gente si rivela cruciale per il suo successivo successo in televisione. Nonostante il suo spirito vivace, Bonolis non è immune alle difficoltà. La sua gioventù è segnata da sfide e momenti di introspezione, che plasmeranno il suo carattere e la sua visione del mondo. La famiglia gioca un ruolo fondamentale nella vita di Paolo. Cresce in un ambiente che valorizza i legami affettivi, e questo gli insegna l'importanza delle relazioni. La sua esperienza con la famiglia lo guida anche nella sua carriera, poiché cerca sempre di bilanciare vita professionale e personale. Questo equilibrio diventa una parte essenziale della sua identità, che il pubblico riconosce e apprezza. La carriera in televisione, una stella nascente. La vera ascesa di Paolo Bonolis inizia negli anni 90, quando conduce programmi di successo come Tira e Molla e Ciao Darwin. Con la sua capacità di intrattenere e coinvolgere, conquista rapidamente il cuore del pubblico. Ogni sua apparizione è caratterizzata da un mix di umorismo e intelligenza, che lo distingue dai suoi contemporanei. Tuttavia, non mancano le critiche. Bonolis si trova ad affrontare rivalità con altri conduttori, come Gerry Scotti e Antonella Clerici. Ognuno di loro ha un proprio stile e una propria fanbase, il che rende la competizione ancora più intensa. Paolo, però, non si lascia intimidire. Anzi, sfrutta queste rivalità per migliorarsi e affinare il suo approccio. È un uomo che non teme il confronto e, al contrario, abbraccia le sfide come opportunità di crescita. La vita privata, amore e famiglia. Un aspetto cruciale della vita di Paolo Bonolis è la sua relazione con la moglie, Sonia Bruganelli. I due si sono sposati nel 2002 e hanno tre figli, Silvia, Davide e Alessandro. Bonolis considera la famiglia una benedizione e cerca di essere un padre presente. Il suo legame con i figli è profondo, e spesso condivide momenti di vita familiare sui social media, mostrando il suo affetto e la sua dedizione. La famiglia offre a Bonolis un rifugio sicuro nei momenti difficili. Parlando delle sue esperienze come padre, Paolo sottolinea l'importanza della pazienza e della comprensione. Ogni sorriso e ogni traguardo raggiunto dai suoi figli rappresentano per lui momenti di gioia e orgoglio. Questo legame familiare non solo lo motiva, ma gli permette anche di affrontare le avversità con una nuova prospettiva. La passione per la musica e l'arte Oltre alla televisione, Paolo Bonolis ha una grande passione per la musica. Ama la musica italiana e internazionale e spesso condivide brani che lo hanno ispirato nel corso degli anni. Questa passione si riflette nel modo in cui conduce i suoi programmi, creando atmosfere uniche e coinvolgenti. La musica non è solo un hobby per lui, ma un linguaggio che utilizza per connettersi con il pubblico a un livello più profondo. Inoltre, Bonolis è un amante del cinema e del teatro. Le sue conoscenze artistiche arricchiscono i suoi programmi, creando un'atmosfera di erudizione che affascina il pubblico. Questo mix di talenti lo distingue dagli altri conduttori e dimostra la sua versatilità come intrattenitore. I segreti del successo, dedicazione e resilienza. Uno dei segreti del successo di Paolo Bonolis è la sua dedizione e il lavoro instancabile che mette in ogni progetto. Non è solo un volto noto, è un professionista che si impegna a fondo per garantire che ogni programma sia di alta qualità. La sua passione e questa dedizione non passano inosservate, e il pubblico apprezza il suo impegno. Nonostante il suo successo, Bonolis mantiene un profondo senso di umiltà. Spesso racconta aneddoti divertenti sui suoi inizi, mostrando il suo spirito resiliente e la capacità di non prendersi troppo sul serio. Questo è uno dei motivi per cui il pubblico si sente così vicino a lui. La sua autenticità è palpabile. Un altro aspetto interessante della sua vita è la sua curiosità intellettuale. Ama approfondire argomenti diversi, dalla storia alla filosofia, e spesso porta queste conoscenze nei suoi programmi. Questo approccio rende Paolo Bonolis un intrattenitore unico nel suo genere, che non solo intrattiene, ma educa il pubblico. Le sfide personali, dolore e resilienza. La vita di Paolo Bonolis è stata segnata da sfide personali. Uno dei momenti più difficili è stato il dolore della perdita della madre nel 2004. Questo evento cruciale ha lasciato un vuoto incommabile nella sua vita, ma Bonolis ha trovato la forza per continuare a lottare e ha trasformato la sua sofferenza in energia creativa. Nel 2010 ha dovuto affrontare un'altra sfida, la malattia del suo amato padre. Questa situazione ha messo alla prova il suo spirito, ma Paolo ha trovato conforto nella sua famiglia, nei suoi amici e nel lavoro. In questi periodi bui, è stato il suo spirito indomito a guidarlo. Ogni volta che sembrava crollare, trovava la forza di rialzarsi, pronto a combattere di nuovo. La passione per il calcio, un amore duraturo. Paolo Bonolis è noto non solo per la sua carriera brillante, ma anche per la sua passione sfrenata per l'Inter. Essere tifoso dell'Inter non è solo una questione di sport per lui, è un legame emotivo che attraversa generazioni. Ricorda le emozioni vissute durante le partite, i successi e le delusioni, tutte esperienze che hanno contribuito a formare la sua identità. La sua passione per l'Inter è spesso visibile nei suoi programmi e interviste. Non perde mai l'occasione di parlare della sua squadra del cuore, rivelando aneddoti personali e storie che mostrano quanto tenga a questa squadra. Il suo entusiasmo è contagioso e riesce sempre a trasmettere l'energia che solo un vero tifoso può sentire. Il mondo dei social media, un nuovo palcoscenico. Con l'emergere dei social media, Paolo Bonolis ha trovato un nuovo modo per connettersi con il suo pubblico. Utilizza queste piattaforme per condividere momenti della sua vita, sia professionale che personale. Questo approccio ha ampliato la sua influenza, permettendogli di comunicare in modo più diretto e intimo con i fan. La sua presenza sui social media offre uno sguardo più personale e umano, mostrando non solo il suo lato professionale, ma anche la sua vulnerabilità. Questa autenticità risuona profondamente con chi lo segue, trasformando le sue rivalità e sfide in momenti di intrattenimento e connessione. Le rivalità televisive, conflitti e collaborazioni. Le rivalità di Paolo Bonolis non si limitano solo ai suoi contemporanei. Ha dovuto affrontare cambiamenti nel panorama televisivo, come l'emergere di nuove piattaforme e formati. Con l'ascesa dei social media e delle trasmissioni in streaming, la competizione si è fatta ancora più agguerrita. Ma Paolo ha saputo adattarsi, trovando modi per rimanere rilevante. In questo panorama di guerre televisive, è interessante notare che Paolo non ha mai smesso di cercare opportunità di collaborazione. Ci sono stati momenti in cui ha lavorato con i suoi rivali, creando spettacoli che hanno unito i loro stili unici. Questi momenti di collaborazione non solo hanno arricchito la televisione italiana, ma hanno anche dimostrato che la competizione non deve essere sinonimo di conflitto. L'eredità di Paolo Bonolis. La carriera di Paolo Bonolis è costellata di programmi iconici che hanno segnato la storia della televisione italiana. Ciao Darwin, avanti un altro Il senso della vita sono solo alcune delle trasmissioni che hanno avuto un grande impatto sul pubblico. In ogni programma, Bonolis ha portato la sua personalità vivace e la sua intelligenza, creando un'esperienza unica. La sua capacità di innovare e rimanere rilevante nel tempo è una delle ragioni principali per cui è considerato una leggenda della televisione. Paolo ha saputo interpretare i cambiamenti della società e adattare i suoi programmi di conseguenza. Questa versatilità gli ha permesso di rimanere un punto di riferimento, ispirando nuove generazioni di conduttori. La separazione che unisce. Nel giugno del 2023, il mondo dello spettacolo italiano si fermò per ascoltare una notizia che toccava profondamente il cuore dei fan di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Con una lettera aperta pubblicata su Vanity Fair, la coppia annunciò la loro separazione dopo 25 anni di vita insieme e tre figli. Un traguardo che, in un'epoca di relazioni effimere, sembrava quasi inarrivabile. Ma ciò che colpì di più non fu solo la fine di un amore romantico, bensì la loro promessa di rimanere uniti come famiglia. Siamo separati ma più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi, dichiararono con tono sereno e consapevole. Queste parole, lontane da toni melodrammatici o rancorosi, riflettevano un profondo rispetto reciproco e una maturità che solo gli anni e le esperienze condivise possono portare. L'annuncio segnava un capitolo nuovo, ma non una chiusura definitiva, la loro priorità rimaneva il benessere dei figli. Una decisione saggia e responsabile che dimostrava quanto fosse importante per loro mantenere un ambiente sereno e amorevole. Per molti, la separazione di Bonolis e Bruganelli rappresentò un simbolo di cambiamento. La società stava evolvendo, e con essa anche le dinamiche delle relazioni. In un'epoca in cui si tende a vedere la separazione come un fallimento, la coppia mostrava come fosse possibile proseguire il cammino della vita in modi diversi ma sempre collaborativi. In un'epoca in cui la narrazione di storie d'amore si concentri spesso sul per sempre. Il loro annuncio invitava a riflettere su come l'amore possa assumere forme diverse e continui a fiorire, anche quando si decide di intraprendere strade separate. Paolo e Sonia, entrambi figure di spicco nel panorama televisivo italiano, si ritrovarono al centro di un grande interesse mediatico. Le interviste e le analisi si sprecavano, ma la coppia si mostrava determinata a mantenere la propria vita privata, rispondendo ai pettegolezzi con eleganza e grazia. La loro capacità di affrontare la separazione con calma e rispetto non solo ispirò i fan, ma offrì anche un messaggio importante a chi, in situazioni simili, si sentiva perso o sopraffatto. Nel cuore di questa storia di cambiamento e crescita, si nascondeva la bellezza di una vita condivisa, fatta di ricordi, sfide e trionfi. Paolo e Sonia dimostrarono che l'amore può continuare a esistere in forme diverse, e che l'unione nella diversità è un segno di grande forza. Così, mentre la loro storia come coppia giungeva a una nuova fase, il legame che avevano costruito nel tempo rimaneva saldo. Un esempio luminoso di come l'amore possa persistere anche quando le strade si separano. In conclusione, la vita e la carriera di Paolo Bonolis sono un esempio di dedizione, resilienza e passione. La sua storia è una fonte di ispirazione per chiunque desideri perseguire i propri sogni, nonostante le sfide. Con la sua straordinaria carriera televisiva e il suo amore per la famiglia, la musica e il calcio, Bonolis continua a essere una figura ammirata e amata dal pubblico italiano. La sua eredità vivrà per sempre, non solo attraverso i programmi che ha creato, ma anche attraverso il suo impatto duraturo sulla televisione e sulla cultura italiana.